un caro saluto a tutti e tutte sono Mirella Santamato e ho il piacere e l'onore di annunciarvi che il canale focus 3.0 ha pensato di organizzare un incontro mensile con voi proprio con voi che ci state ascoltando per raccontare le vostre storie storie di sfide storie che raccontano veramente una rinascita della vostra vita dopo aver anche incontrato delle difficoltà dei problemi eccetera e come voi siate riusciti a uscirne più gioiosi più forti di prima questa rubrica avrà una scadenza mensile e si intitolerà oltre le sfide la tua storia e la tua rinascita ora sarò io a intervistarvi quindi avrò questo piacere vi prego di mandare tutti i vostri curriculum e le vostre storie tutto ciò che ci volete dire a questo indirizzo email che è focus il mistero della vita 3.0 chiocciola gmail.com oppure al numero di whatsapp 3 3 8 5 4 4 7 3 9 9 comunque vedrete tutti questi numeri e questi indirizzi in sovrimpressione quindi io vi aspetto numerosi per essere intervistati da me sulle vicende straordinarie della vostra vita perché ogni vita è degna di essere raccontata e quindi vi ricordo ancora il nome di questa nuova rubrica che ripeto sarà mensile il titolo è oltre le sfide la tua storia e la tua rinascita a presto